ah finalmente si gioca un po' a minecraft ah ok oddio oddio ma dove cazzo sono finito è un po' cubettoso qua si mi sa che senso ma buongiorgio a tutti e bentornati benvenuti su minecraft allora noi abbiamo già una bella ascia di ferro bella dura più dura non pensate male apriamo la cassa varie cose ok ma quanto cazzo sono stato fortunato bella madonna che culo posso spawnare proprio nel bel mezzo di una come si dice i gattini oddio somiglia stra tanto a un gatto che avevo va bene buongiorgio no ma non è un una piramide vabbè vabbè noi ce la ce la dirubbiamo comunque vabbè il letto potrebbe servirci buongiorno allora è lei la guardia del villaggio buongiorno vorrei un'indicazione per il mercato dai accuccia iniziamo da dio prima roba che fai non ti vai a farmare un po' di alberi che fai Ah Ma Oddio Aiuto Ma Merda Allora Vabbè Un po' di terra extra Oh ci sarebbe fare casa qua dentro Però state calmi Oddio non ho manco una Aspetta Venite qua che me lo bruciate Ma non è stupido lo scheletro Tu si prova No Accuccia Aspetta Tu muori Grazie Alleluia Allora dire Mettiamo un po' di torce E beh Potremmo farci qua baita Beh Ci starebbe Ok Va bene Eccoci qua Allora qua vabbè Vedremo la minera di sicuro Vabbè allora Iniziamo qua a spianare Tutto Va bene E ho qua direi di Spianare un po' Ok vabbè Del resto sarà la nostra prima casa Sarà un bello schifo Quindi Vabbè 60 assi di legno Beh Potremmo Iniziare a fare un muretto Beh Dai Ci potrebbe stare Beh allora Per ora facciamo una roba Così Ok Che almeno mostro Non possono passare E primo giorno andato Yuppie Ottimo Allora Questa è la nostra baita Così Picciolina Picciò Allora raccogliamo tre pezzi Di Di pietra così veloce Anche se sono quattro Ma vabbè Ok Piccone di pietra Alleluia Ok Allora abbiamo 44 pezzi Di pietra Prima fare Due fornaci Così Veloce Nel muro E ne facciamo Altre due Come fate a prendermi la fornace Se cliccavo qua Quando ancora non c'era questa Vabbè Misteri Io ve lo Oddio Aspetta che C'è un simpaticissimo tipo Pansai Allora Volevo far tipo Coprire questa caverna Qua e fare una piccola porticina Però coprirla Proprio di stone Proprio di pietra Di ciottoli Appunto messi qua A cuocere Che poi sapete Che viene fuori Sta pietra qua Quindi Per ora Io ne ho 16 Allora Io 16 Per ora Li metto Qua A cuocere Guarda che poi Mi serve E vabbè Metto Così Delle assi Di legno A caso Questa qua Di betulla Che Ok Per cuocerci La roba Poi Poi direi Di cambiare Il pavimento Ne vediamo qua Le carnine Sono Le carnine Non le bistecche No Ah no È il manzo Poi Prendiamo sti qui Iniziamo a fare Qua le nostre cose Allora Potremmo fare Così Allora Poi Copriamo Sto buco qua sopra Che Ahem No Dai Poi quando si spacca Non Dovevo ancora Ricuocerla Porca vacca Oh ma Oh ma Sono ritardato Allora Allora Adesso Così E poi L'ultimo Qua Ok vai Primo piano Già così Poi magari Devo Tipo arrotondare Un po' Più su lì Ok Vediamo Che cazzo sto a fare Devo metterli qua dentro Eheh Ops Ma vediamo se riusciamo a fare Anche il secondo piano Allora Vedere qua lo facciamo Identico a quello E poi forse qua lo facciamo No dai lo facciamo Uscire di uno Ok vai poi Ah c'è rimasto solo un blocco Yuppie Allora Questo qua Lo mettiamo qua E poi si Tiriamo indietro di uno Ce ne sono solo quattro qua Oddio Allora io direi di andare a dormire Ne facciamo anche l'altro piano Che facciamo così Poi qua Facciamo Uscire E ok anche qua facciamo uscire Qua togliamo Questo blocco di terra Poi da qua in poi direi Sì sì di più o meno Seguire un po' Tutto L'andamento Diciamo Sì neanche ho capito Quello che ho detto State tranquilli Allora A parte qua Visto che ci sono Tre diciamo Tre blocchi Potremmo fare qua il portone Appunto con l'entrata da tre Allora Qua possiamo Spare così E così Ok dai Poi da qua Tiriamo giù L'altro pilastro Ok Prendiamo sti Tre Miseri blocchi Facciamo così Ok dai Ci sta Solo che poi Il problema Sarà la porta Come metterla Ok Non ho detto niente Rifacciamo La porta normale Facciamo così Poi qua Facciamo una bella Porticina Signori e signore Benvenute La Alla cosa È venuta a casa mia Wow Vabbè dai Però ci sta Come casa Allora Devo solo Tipo Faccio un po' Meglio il Sopra E Bon Vediamo un po' Com'è Prima togliendo Tutta la terra Ovviamente Ok dai Very nice Ok potrei Ho un'idea Un'idea bella Cosa Allora Qua Togliamo Questi Questi pezzi di pietra Sì Vent'anni per cuocerli Due secondi per distruggerli Adesso Prendiamo un po' Di alberi Ok Solo 5 Va bene Va bene lo stesso E facciamo Così Non so se farlo Dal davanti O dal dietro Cioè Su sto blocco Vabbè Facciamolo qua Ok Ci servono altri alberi Ok Adesso Non è che facciamo Solo qua fuori No Perché che vita E se non te la puoi Complicare Qui ne esaggiamo Non facciamo Così Facciamo Dei blocchi 3x3 E poi Attorno ci mettiamo Però non 3x3 Perché poi No Perché uso il piccone Facciamo Così Poi qua ci andanno Altri tronchi D'albero Qua 3 Pezzi Mannaglia Non ci sto però Ti riangio il muro Vabbè però Adesso facciamo Solo Facciamo Un po' Questo muro Vediamo un po' Come sta Ok Dai ci sta Adesso Facciamo Uno E due Si E poi In teoria Basta Poi poi dobbiamo fare Il soffitto E E Vabbè dovremmo fare Tutta L'altra Cioè Tutte le altre pareti Con Sempre con Tutta parte qua Però dai Ci sta Come Come Pavimento Che cazzo è Che cazzo sta di Come muri Ok 1, 2, 3 Poi mettiamo I cosi in verticale Solo che Non ne abbiamo abbastanza Ok Facciamo qua Il letto Spostiamo Dove lo mettiamo Metto qua Anche bello verde Lime Ok Va bene Dai Che sta Adesso Voglio più Almeno Finire Questa parte Qua Yuppie Che joy Se c'è la tempesta Possiamo dormire Vero Vabbè Allora direi di concludere Qua l'episodio Spero che vi sia Preciuto Vi ricordo Di iscrivervi Di condividere Lasciare like Se non lo fate Siete delle brutte persone E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao